Ciao ragazzi, siamo su Gabriele Gabriella Quando ho detto che volevo chiudere il canale Era uno scherzo Perché? Perché dovevo fare una cosa E mi pareva Che dovevo chiudere il canale Invece no Perché, vabbè, lo chiudo Raga Cominciamo con le mie apparecchiature Per che ci gioco Pomeriggio, poi farò anche un episodio Ovviamente Però Uno, no, non lo posso fare Un apparecchiatura grande Cioè Cioè, qual è? Il computer Questo computer, bello L'ho pagato 500 euro Poi, vabbè È bello Dentro il gigante Il gigante, guardate qua Il gigantesco Spengiti, spengiti, spengiti Poi c'è il telefono Quello là che abbiamo fatto sbloccare Se vi ricordate Bellissimo Qua c'è la foto con Valerio Andiamo a vedere Poi fare un episodio di Assassin's Creed Unity Beh, bello dai Poi c'è la PS nera Questo qua con dentro White City Qua dentro ci sono tutti I giochi Aspettate ragazzi Che stop un attimo Poi ci rivediamo Ok ragazzi Siamo tornando scusate Perché Sto parlo Questa è La PS vita No Non la PS vita Scusate Qua c'è il gioco Un altro qua Ta 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 Questo Bellissimo Tipo San Andreas Ma non è San Andreas E' Lipt City Mi pare Poi questi sono tutti i miei giochi Che non mi devo comprare Le cose per mettere Però Io ci levo quel gioco di dentro E ci metto altri giochi Bellissimo Questo è il suo caricabatterie Poi c'è un altro uguale Però bianca E questo qui non ci funziona Questa qua ce l'ho Da 6 anni Ce l'ho queste Poi c'è l'ultima La PS vita La vera PS vita Questa ce l'ho da un anno Vediamo Ancora nuova ragazzi E' solo un po' scarica Ma è nuova Nuova Qua Di qua si accendeva Di qua ci mettevi la memoria Lo gioco qua Qua ci mettevi il gioco Purtroppo ho perso FIFA 19 E' FIFA 14 Vabbè Spero che questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi al mio canale Attivate la campanella E lasciate dei commenti Ciao Vi saluta Gabriele Gabriele Vi saluta Gabriele Gabriele Bye Bye Beh vi saluto Gabriele Gabriele Un'altra volta Ciao